Un nuovo inizio, un nuovo laptop della serie Modern di MSI. Sottile, potente ed elegante, Modern 14 è qui per aggiungere stile alla tua produttività. Dimentica l'ordinario e abbraccia il moderno, come lo chassis reclinabile a 180 gradi e il tasto flip and share per condividere lo schermo con un clic. Estremamente portatile e ultra sottile, Modern 14 abbina ad un look elegante tutta la potenza dei processori Intel Core i7 di dodicesima generazione e la grafica Intel Iris Xe per prestazioni più elevate in multitasking e intrattenimento multimediale. E con tutte le porte e gli slot di cui hai bisogno per lavorare al meglio, anche al buio, grazie al touchpad più grande e la tastiera retroilluminata. Inoltre, MSI Center Pro porta l'ottimizzazione a livello successivo con modalità e risorse di sistema facilmente regolabili per un'ampia gamma di scenari ed esigenze. Con MSI Modern 14, le tue passioni iniziano ora!